Due settimane di passione per il Foggia e per il suo popolo. Il debutto negli spareggi playoff è ancora lontano, i rossoneri scenderanno in campo solo il 14 di maggio e fino ad allora ne passerà di acqua sotto i ponti. La squadra di Deleorossi tuttavia vuole giungere all'appuntamento clou della stagione nelle migliori condizioni fisiche e psicologiche possibili ed il lavoro del tecnico e del suo staff in questi giorni ha questo come unico obiettivo. Freme anche il popolo rossonero, curve già in fermento con i gruppi organizzati che già da giorni hanno invitato presso le loro sedi tutti quei tifosi che hanno scelto i club per la sottoscrizione la scorsa estate degli abbonamenti. E per gli stessi club, così come per il resto degli abbonati, la società dovrebbe prevedere il diritto di prelazione nell'acquisto dei tagliandi delle gare degli spareggi promozione. C'è da dire tuttavia che i playoff da queste parti non evocano ricordi piacevoli, anzi a dirla tutta rappresentano sin dalla loro nascita per il Foggia un autentico tabù. A guardare i precedenti c'è da tremare la prima esperienza nei playoff e del 2000 in C2. Il Foggia fu eliminato nella doppia semifinale dalla C-Reale. Due anni dopo fu invece battuto in finale dal Paternò, sempre in C2, ancora viva nei ricordi e la bruciante sconfitta da Vellino del 2007, maturata quando si era ormai ad un passo dal triplice fischio finale per il gol di Rivaldo che mandò le squadre ai supplementari, lì dove il Foggia fu costretto poi alla resa e vide sfumare il sogno del ritorno in Serie B. Nel 2012 in Serie D arrivò invece l'eliminazione sul campo del Matera, poi la storia recente, la finale persa dalla squadra di Roberto De Zerbi col Pisa nel 2016, l'eliminazione a Bari nel 2021 e quella di Chiavari di un anno fa sul campo dell'Entella. Un vero e proprio tabù che come tutti prima o poi andrà sfatato e chissà che non sia finalmente giunta l'ora.